Quello che sono geniali, oggi, come possiamo definirlo oggi, lo stato del jazz? Oggi il jazz, specialmente quello italiano, sta conoscendo una stagione particolarmente fortunata. Abbiamo dei musicisti jazz osannati, amati in tutto il mondo, quindi da Fresu, Pierannunzi, D'Andrea, tanti, ma anche noi a Spezia abbiamo dei giovani, a Cidale, a Corradi, insomma, comunque la scena italiana sta riprendendo vigore, quindi è bello, grazie anche comunque a questi grandi che non dobbiamo dimenticare. Potremmo definire che la musica del maestro Umigliani aveva un sapore un po' particolare proprio, potremmo definirla, ecco, questa è la musica di... Sì, Umigliani aveva la capacità, allora, prima di tutto, con le colonne sonore, lui sperimentava praticamente tutti i generi musicali, no? Dal beat alla bossa nova, al jazz, però era molto morbido, molto avvolgente, molto sensuale, aveva questo approccio qua, anche malinconico. Ma perché è stato il primo a portare le colonne sonore il jazz? Sì, è stato il primo con i soliti gnoti, ed è un po' quello che facevano in America i jazzisti americani con il cosiddetto crime jazz. Cioè, Duke Ellington scrisse la colonna sonora di anatomia di un omicidio, Stankenton lo stesso, quindi il jazz era entrato poi nella cinematografia, anche perché era un linguaggio moderno. Il jazz è la musica del Novecento. Certo, certo. E il cinema è l'arte del Novecento. E quindi questo matrimonio, questo connubio, doveva avvenire. Avevano trovato due interpreti meravigliosi, insomma, rispetto, sia come registi che come musicisti. Sì, certo. Quindi, insomma, voglio dire, il regista da parte di me. C'è un momento dove dice che suonare con il Chet Becker, quando era in stato di grazia, era come sentire la musica suonata da un angelo. Questo mi ha molto conto. Sì, lui conobbe Chet Becker sul set di Urlatori alla sbarra, il film di Lucio Fulci dedicato agli urlatori, a Mina, Celentano. Lui lo conobbe lì perché Becker faceva una piccola parte. Becker aveva appena vinto il premio come miglior trombettista americano, battendo addirittura Miles Davis e Clark Terry in quell'anno lì. Quindi, insomma, era venuto in Italia. Lui era già dipendente dalla droga e con Umigliani cominciò un rapporto particolare. Ed io mi sono sempre chiesto, e l'ho chiesto anche a Dino Piana, come potessero andare d'accordo un musicista e un compositore così, rigoroso, fermo, come Umigliani, e un genio e sregolatezza come Chet Becker. E lui, sorridendo, mi ha risposto, vabbè, ma uno come Chet Becker ne nasce uno ogni cento anni. Quindi Umigliani sapeva benissimo. Lo abbiamo dimenticato troppo presto anche in Italia, quell'artista lì. Ma Chet Becker... Non si sente mai, quando a volte ci sono rivisitazioni o ricordi, non so, anche di filmati. Non è stato mai, perché era fuori dalle righe, era fuori dalla normalità, insomma. Sì, devo dire che in Italia comunque... Poi lui ha avuto un soggiorno a Lucca piuttosto lungo perché è stato incarcerato, eccetera. Però in Italia noi abbiamo sempre avuto comunque un bel ricordo di Chet Becker. È stato a metterla. I dischi vengono ristampati spesso, quindi... C'è quell'aneddoto di quando lui doveva andare a registrare e che dice esco un momento... Sì, beh, è scomparso, ha preso il primo treno ed è fuggito in Germania per andare a recuperare la roba da... Quindi quando è tornato... Aveva solo il beccuccio della... Aveva il bocchino solo, in tasca. Gli hanno detto, guarda, bisogna incidere. Lui ha dato uno sguardo, almeno è vero, ha dato uno sguardo a quello che doveva suonare e dice, ha fatto delle variazioni e dice, tutti, insomma, ecco, questo era davvero... Questo è il genio, questo è il genio e Umigliani lo sapeva bene, benché, ecco, benché in quel periodo Umigliani avesse a disposizione dei musicisti meravigliosi. Perché diciamo che le orchestre più famose erano quelle di Piccioni e Trovaioli e lì suonava il meglio, suonava Carlo Pes, il chitarrista, suonava Nino Culasso, suonava Maiorana, suonavano dei musicisti bravissimi. Ecco, ed erano tutti intorno e tutti ad aspettare però il genio, Chet Becker. Cioè non c'era competizione, c'era competizione la giusta competizione, però si riconosceva... C'era già il riconoscimento. Si riconosceva quando c'era un genio, era a confronto con un genio, quindi poteva essere Chet Becker, poteva essere Maiel Davis, ma comunque sapevi che quello era il massimo, insomma. Quando faceva gli affronti. E certo, e Umigliani gli dava tutto lo spazio di cui lui aveva bisogno. Cosa possiamo dire in finale, ecco, che è stato uno dei pilastri della nostra musica? Sì, Piero Umigliani è stato uno dei pilastri e devo dire che in quel periodo, torno un attimo sul discorso della RAI, il jazz andava in prima serata. Piero Umigliani fece due programmi televisivi, Moderato Swing e Fuori l'orchestra. E andavano in prima serata e lui invitava tutto il meglio del jazz, italiano e non. Perché oltre a Chet Becker, un altro sodalizio stupendo è stato con Ellen Merrill, la cantante inglese, che era ospite fissa di questo programma. Quindi ecco, questo è un po', pensando ai tempi nostri, queste sono un pochino le differenze. Da noi magari va in prima serata il programma che deve lanciare i talent, dei format già preconfezionati, eccetera. Una volta in prima serata andavano i jazzisti, andavano comunque persone che avevano qualcosa di... E suonavano in diretta. Ha detto niente. Ecco, quindi certamente con questo modo tanta gente si avvicinava anche a generi di musica differenti. Ma è una forma educativa. È una forma educativa, quella che abbiamo perso. È certo. E Umigliani insieme al grande Trovaioli, al grande Piero Piccioni, a Franco Cerri, potrei dirne tanti di nomi. Con la sinistra, io me lo ricordo, Cerri con la sinistra. Esatto, potremmo dirne tanti, ecco, però questi personaggi hanno fatto la musica italiana. È vero, è vero. Diciamo, questo è edito da auditorio. Sì, sì, sì. Dove si può trovare? Si può trovare in tutte le librerie, a distribuzione nazionale. E noi lo presenteremo durante il Festival del Jazz, ringrazio tra l'altro Italo Leali, l'organizzatore, perché il 19 di luglio al Palco della Musica verrà la figlia Elisabetta e l'editore Claudio Chianura e quindi presenteremo questo libro qui a Spezia, insomma. E che sarà certamente apprezzato come, almeno, io ho avuto questa profonda impressione di studio e di passione. Sì, era un libro che era un po' aspettato, diciamo, si aspettava un po' da tanto tempo un libro su Piero Migliani e purtroppo fino adesso non... e io sono contento di averlo fatto perché è giusto. Adesso c'è e gustatelo, insomma, vale la pena davvero di... Perché poi, riportando indietro, quando queste notizie, leggendole, si rivivono anche poi i nostri momenti di quel tempo quando la musica ci faceva anche ballare, in quel modo... Sì, chi li ha vissuti ha la possibilità di riportare alla memoria alcune cose. Chi non li ha vissuti e magari è giovane... Fa un corredo, un corredo di conoscenza. Sì, magari vede un pochino come erano le cose in quel tempo, come si lavorava... E può fare i confronti. Eh sì, può fare i giusti confronti. Noi ringraziamo naturalmente Andrea Campanella, aspettando altri lavori naturalmente e da parte mia un grazie e al prossimo incontro. Grazie, buonasera. Grazie, buonasera. Grazie, buonasera. Grazie.